Ladies and gentlemen, ragazzi e ragazze, nottezie, è arrivato il momento che tutti voi stavate aspettando, è tornato il momento che tutti voi stavate aspettando, bentornati nella nuova, nuovissima serie di Capoman Awards! Grazie, grazie per il mio amore, mamma che buon di Capoman! Grazie, grazie. Ragazzi, io vi chiedo almeno 5, no, il primo episodio, 7000 almeno mi piace su questo video per il secondo episodio, per chi lo ha visto lo scorso anno sa di cosa stiamo parlando, ragazzi, è ora di assegnare i premi ai migliori e ai peggio, è ai peggiori di questa prima giornata di Serie A, quindi mi piace, mi raccomando, vi porto pure il buon Fabio nel prossimo episodio, non costa niente e mi piace, quindi iscrivetevi e attivate la campanella, non costa niente neanche iscriversi appunto e attivare la campanella per restare sempre aggiornati e ricevere le notifiche quando pubblico qualcosa, c'è altri due canali YouTube, li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video, vi consiglio un modo completamente gratuito per seguire il mondo del calcio, se ancora non l'avete fatto passate sul link in descrizione e scaricate di corsa OneFootball, non vi ripeto più cosa vi offre OneFootball, per capire di che cosa sto parlando dovete testare con mano a portata di due click, è gratis, dal link in descrizione e si parte con le nomination e con i relativi premi da assegnare che personalmente ragazzi andrò a portare tipo tapiro d'oro a tutti i calciatori che nominerò, quindi preparatevi, detto questo si parte dal primo premio di questa settimana e i premi durante la settimana, durante le giornate possono anche cambiare, proponeteli qua sotto le nomination, mi raccomando qui sotto nei commenti, primo premio di giornata, premio Spider-Man, ossia al portiere che ha fatto situazioni più spisellanti per la propria squadra, eh, se non ci fossero stati gli ultimissimi secondi della partita l'avrei dato un altro, ma ho deciso, rullo di tamburi, di assegnarlo a... Perin! Perin! Mi è piaciuto ragazzi, mi è piaciuto, è un... Voto, ovviamente, una nomination e un risultato finale puramente soggettivo, ma quando c'è stato da metterci le mani, secondo me ce l'ha messi, per essere un secondo portiere della Juventus, ed è questo il motivo che mi ha fatto pensare di assegnargli questo premio, è veramente tanta roba. Secondo premio di giornata ragazzi, questa è la nomination più attesa, torna come racia a capodanno, potete ben immaginare di che cosa stiamo parlando ragazzi, ecco, questo proprio è un assist che mi è stato fatto, a questa nomination, proprio in questa giornata ho associato il nome di... Massimiano della Lazio ragazzi, 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti, mette le mani fuori dall'aria, chiappa la palla, caccia una zizza, ha fatto un macello, ha fatto l'hanno cacciato ragazzi, veramente, Nainggolan a capodanno mi sa che stava... no, stava peggio di lui, però insomma il livello è abbastanza simile. Detto questo, premio fenomeno di questa prima giornata di settimana, stati di serie A, eh ragazzi, oooooooove, a chi lo assegna Di Maria, Di Maria ragazzi ha fatto veramente gli sfraceli in questa giornata, si dice se entro, spacco, me spacco, esco, ciao, però ha fatto tutto lui, quindi veramente complimenti a Di Maria, premio fenomeno di questa settimana, e per un premio fenomeno c'è un premio pirla, ma un premio pirla ragazzi, ma pirla per di pirla, perché fino al secondo della fine praticamente era stato un fenomeno, da fenomeno a pirla, il passo è breve, e ragazzi, si, rullo di tamburi, ma chi ha segni sto, a chi, a chi, al ratu, ragazzi, è stato veramente un pirla, eh si, ve lo devo dire, perché dice, purello, può capitare una situazione in altra, onestamente parlando, insomma, stava a far fenomeno fino a quel momento, eh, però, premio pirla, ratu, premio successivo, premio sfigati della settimana ragazzi, è tutto collegato ovviamente, perché il premio sfigati della settimana, lo assegno, rullo dei tamburi, a gremonese, ragazzi, è veramente sfiga, è veramente sfiga, mi aggolo così, è anche sfiga, onestamente parlando, saranno portati a casa un pareggio che sarebbe stato oro per l'esordio in Serie A, e invece se sono ritrovati con un pugno de modderato in mano, Detto questo, di conseguenza andiamo ad assegnare il premio culoni Dai, subito Per la controparte A Fiorentina Se non ci hanno avuto culo loro ragazzi Ma chi ci ha avuto chiappa? Cioè, voglio dire Permettetemi, all'ultimo secondo C'avevano addirittura un giocatore di più E non riuscì a sbloccarla manco che le mani A sblocchi all'ultimo secondo Questo è culo, eh, ci sta poco da fare Premio on fire di questa settimana ragazzi Andiamo ad assegnare il premio al calciatore più Focoso E non pensate a male Non c'entra niente la piattaforma giallo-nera Di questa settimana 3, 2, 1 Quara scelia, quara scelia Quara scelia, quara ballare ragazzi Il georgiano del Napoli Gol, assist Uno pensa che segna di destra, di sinistra Perché ha tutti e due viti buoni Invece segna di capoccia E poi le fornisce l'assiste per Zielinski Una nonna e una zia È stato veramente incredibile sotto ogni punto di vista Ma diamo anche il premio sdopato di questa settimana E ovviamente regà in modo puramente ironico È satira Però Ole Zielinski Dice come Zielinski? Ragazzi ma l'anno scorso Zielinski io non lo so Non si riconosceva Ma che cosa fa? Ha usato in maniera ironica Il Gatorade dell'Atalanta Per ritornare a questi livelli Perché veramente ragazzi Se continua così vince il pallone d'oro a mani basse Un qualcosa Veramente di incredibile Premio ed opato Zielinski E andiamo al premio miglior squadra ragazzi Rullo dei tamburi Pronti? Sì! Sì Chi? Il Napoli Non me l'aspettavo Ragazzi era la squadra più punto interrogativo De questa serie A Perché dice Perde un sacco di giocatori Li sostituisce E bandiere Una nonna Una zia Una cugina Una nipote Alla fine fanno 5 gol Quasi 6 Forse 7 Al Verona Sono quelli che hanno convinto di più E che ai nastri di partenza partivano indietro Quindi veramente Premio miglior squadra di questa settimana in assoluto Per il premio miglior squadra Però c'è anche un premio peggior squadra Rullo dei tamburi Rapidi Chi? Dillo Tirano fuori No meglio che non tirano fuori E il Monza E il Monza ragazzi Dici come il Monza? Ragazzi Sì hanno comprato Nonno Mi cugino Mi nipote Mi cognato Mi socera Io Fabio Mi fia che ancora deve nasce E poi E poi perdi 2 a 0 contro il Torino Crei veramente Poi far guardare la bandierina Al minuto 108 Vabbè sappia Per cui Ecco E mood del tifoso del Monza adesso Peggior squadra della settimana Tante aspettative Tanto gonfiato Dagli acqua E poi Poi tutto fumo e niente arrosto Se potrebbe chiamare anche tutto fumo e niente arrosto Infatti sto premio di questa settimana Premio terza gamba Premio terza gamba A rullo di tamburi ragazzi Viene proprio Sorge proprio spontaneo Assegnando così 3 2 1 Dusan Vlaovic Sì ragazzi Rigore Se procura rigore Lo trasforma E poi assiste di Maria Vlaovic De cattiveria Attaccante d'aria di rigore Tanti dicevano Quest'anno Vlaovic Non fa golla manco che le mani Perché è insopravvalutato Del ca E così Eccola Doppietta Beccate sta terza gamba Non te paga scala Sopri e tali Gli spogliatori Che se non te purga Premio meteora Di questa settimana Rullo di tamburi Ragazzi Non ve lo immaginate Ma mo che bo Dico Dice come ho fatto A non arrivarci Premio meteora Beccato Ragazzi Ogni volta che vede Milan È una purga È un qualcosa Ma solo con Milan Però Quindi per quello Premio meteora È una meteora Che solo quando gioca Con Milan Entra in rete Apocalitticamente Parlando Beccato Beccato Ma cosa stai facendo E detto questo Andiamo al premio Rivelazione Di questa settimana E per la rivelazione Ragazzi Rullo di tamburi E poi voglio gli applausi Subito dopo Di chi stiamo parlando Ale Ante Rebic Dice perché rivelazione Perché l'anno scorso Ha fatto 2-5 In tutto il campionato Ha fatto 2-5 La prima giornata De Serie A Ragazzi In uno stato De forma Veramente incredibile Pazzesco Barra esagerated Non può che essere Una rivelazione Ovviamente Poi Dalle prossime giornate Non sarà più rivelazione Ma conferma Da stagione precedente A quella precedente Quindi Insomma La situazione è molto Molto particolare E poi ragazzi Il premio più ambito Dell'anno Il premio più ambito Della settimana Non sapevo di essere In campo Rullo Rullo No rulli Che gioca Il premio più ambito Ma tu puoi Cioè praticamente Ha regalato La vittoria Alla Lazio Maximiano Uno dei meno Passano un vantaggio Con giocatore in più Dal quarantesimo Al quarantacinquesimo Che cosa fa Quarantottesimo Chi appa e se fa Caccià Ma tu stai Ma tu stai Ma non sapeva di essere In campo Pensava di stanno Lo so io A fare kickboxing O Come si chiama Ha mostrato Macello Ha fatto un macello Ha fatto solo danni Io vi ringrazio per la visione Questi sono i Gabman Awards Di questa settimana Vi do appuntamento Alla prossima Giornata di serie A Ma mi dovete fare Tutto il vostro supporto Per continuare a portare Questa serie Ciao L'uccello Se è eccita Ciao